Piscine, palestre e strutture sportive che con molta difficoltà sono sopravvissute alla prima chiusura, adesso rischiano veramente il tracollo. L'allarme è lanciato nei giorni scorsi dai responsabili delle aziende, arriva adesso dalla CGL regionale e prende in considerazione anche i lavoratori del settore. Si tratta infatti di strutture che in molti casi hanno speso ingenti risorse per garantire l'accesso ai propri spazi in sicurezza. L'impatto di questa ulteriore chiusura mette a rischio circa un milione di lavoratori del settore a livello nazionale. Tra questi le categorie che più verranno penalizzate sono i lavoratori autonomi dello sport e i collaboratori sportivi. Nidil CGL Toscana ha chiesto che il governo si adoperi per garantire la continuità occupazionale e misure adeguate di sostegno al reddito, obiettivo che deve essere raggiunto per il sindacato passando dall'approvazione della legge sullo sport. La riforma, che tarda ad essere approvata, dovrà necessariamente valorizzare questo lavoro riconoscendo diritti e tutele reali anche in termini previdenziali e assicurativi a tutti coloro che vi operano senza lasciare indietro nessuno.